Carlo ci risponde? ai 45 torneremo indietro a centrale e andremo a Malpensa in treno carletto non prevede eccolo in diretta che forse no forse è arrivato siamo sotto la pioggia come calimiero forse vediamo adesso ci piantiamo in un bar carletto c'è il bar non c'è mai stato il gruppo sei riuscito a chiuserlo però ci siamo ah non è un bambino ah non lo so ah non lo so ah non lo so ah non lo so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io lo schianco là giù, 10 a 0. Epic Bay, Carlo. Un po' di magica poesia per Carlo, questo posto mitico rovinato. Dovinato. Grazie a tutti. No. 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 No.